Un appuntamento fisso, molto seguito proprio in questa nostra emittente, strutturato, organizzato da componenti che vedrete anche questa mattina proprio nel mio salotto, perché? Perché si parla di SPI, ovvero il sindacato appunto dei pensionati. È molto importante ragazzi parlare di pensioni, più che mai questa mattina, state tranquilli, non affronterò troppo il tema delle pensioni, però se vogliamo sfiorarlo, siccome si parla, si sente parlare anche di possibili cambiamenti, insomma vediamo un po' anche la situazione, se abbiamo tempo, rimarrà del tempo anche un po' di quelle che sono le pensioni, sì perché insomma voglio dire, anche questo è un tema molto importante che voi seguite fra l'altro sempre. Grazie davvero allora per essere qui, Alfredo Sgarbi, segretario generale SPI CGL, grazie davvero. Grazie a Sauro Serri, responsabile. Comunicazione SPI CGL, quanto è importante anche la comunicazione davvero, per trasmettere dei messaggi, come dicevo prima, voi lo fate in modo molto ben fatto, esemplare, due volte alla settimana con un appuntamento proprio che vi riguarda, dedicato proprio a SPI Modena, lunedì e giovedì 19.15, proprio su questa emittente. Al freddo, innanzitutto tanto lavoro, tanto lavoro che vi porterà poi a un lungo cammino, diciamo così, che vi porterà a un congresso molto importante, un congresso provinciale di dicembre. Prima però, se sei d'accordo, io vi sto dando del tuo, intanto ormai ci conosciamo, siamo abbastanza, un po' di famiglia così, facciamo un attimo, una piccola riflessione, una piccola spiegazione, magari anche sintetica, di che cos'è lo SPI CGL, di che cosa si occupa, quali sono un po' insomma le sue attenzioni principali. Ok, lo SPI CGL nasce nel 1957, quindi per una grande intuizione di Giuseppe Di Vittorio, e ha, voglio dire, tra i suoi iscritti, ha il modello lavorativo, cioè l'attenzione che prestiamo, è quella sostanzialmente della tutela individuale, ma non solamente, facciamo anche contrattazione di carattere sociale e territoriale, quindi voglio dire, siamo effettivamente un sindacato a tutti gli effetti, che però ha anche la caratteristica di prestare delle fortissime attenzioni rispetto ai bisogni individuali delle persone. Pensiamo alla burocrazia, pensiamo a denunci dei redditi, pensiamo a tutto ciò che serve, ad esempio, per poter avere dei bonus, adesso ti serve tutta una serie di certificazioni. Devo dire che in questi anni lo SPI CGL è fortissimamente cambiato. Una volta, voglio dire, gli iscritti allo SPI erano quelli che da lavoratori attivi iscritti alla CGL passavano allo SPI, cioè davano una continuità alla loro attività nel sindacato. Oggi oltre il 50% degli iscritti allo SPI non sono mai stati iscritti alla CGL e molte volte non sono mai stati iscritti ad un sindacato. Quindi in qualche modo estranei che hanno trovato in voi un punto di riferimento importante a livello proprio di tutela dei pensionati italiani, ricordiamo appunto sindacati pensionati italiani, quindi insomma parliamo di una realtà importantissima nazionale. Questo naturalmente ci obbliga per svolgere al meglio il nostro lavoro di essere costantemente aggiornati rispetto all'evoluzione che ha la società. Ed ecco perché noi facciamo un congresso ogni quattro anni, che non è un congresso per regolamentare solamente la organizzazione interna della nostra struttura, ma è proprio, voglio dire, per recepire e quindi renderla in pratica la nostra attività rispetto alle modificazioni che sono avvenuti nella società in questi quattro anni. Io adesso per la verità dopo due anni si fa fatica a riconoscerla, no? Quattro anni è un spazio ancora, voglio dire, sul quale si può provare di innestare delle organizzazioni dal punto di vista del rapporto con la gente aggiornate ed importanti. Certo, un congresso questo che sarà appunto quello del 2023, quello a cui facevi riferimento, cioè il congresso nazionale, scusami. La campagna elettorale, la caduta del governo Draghi ci ha spostato in avanti i lavori del nostro congresso. Noi oggi avremmo già dovuto essere nei congressi di base, con la chiusura di tutti i congressi entro la fine del 2022. Ma invece, voglio dire, noi cominceremo effettivamente l'attività dei congressi di base con i primi giorni di ottobre per terminarli alla fine di novembre e dalla fine di novembre i congressi sia provinciali che regionali. Si sposteranno invece nel primi mesi del 2023 i congressi nazionali. Nazionali, chiarissimo. Un'altra tappa importante appunto riguarda ottobre, insomma, perché è anche qui in questo caso parliamo di partenza delle prime assemblee, anche questo ovviamente sono tante realtà tutte importanti per poi arrivare a quella famosa importante tutela che dicevamo appunto dei pensionati. Sì, adesso noi stiamo lavorando per spiegare quello che dovremo fare nei prossimi mesi, perché la macchina congressuale è una macchina molto complessa, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista delle questioni che devono essere poste all'attenzione dei nostri iscritti. Quindi già da adesso, pur avendo procrastinato in avanti il congresso, faremo delle iniziative per ricominciare a parlare con la gente dei contenuti che vorremmo poi affrontare nel congresso. E questo lo facciamo attraverso un'iniziativa che è lo SPI in piazza. Le piazze della nostra provincia saranno interessate dai nostri gazebo, dei nostri banchetti, dove racconteremo quelli che sono i punti principali della nostra attività. La prima fra tutte è l'appuntamento elettorale che avremo il 25 settembre. Noi ragioniamo con i nostri pensionati dicendogli che occorre che vadano a votare, che non devono evitare di incrementare l'astensionismo. Dopodiché ognuno vota quello che gli pare, per noi è importante, però che la democrazia viva sulla partecipazione dei lavoratori. Fatto questa operazione, che coinvolgerà circa 50 piazze nell'arco di questo mese, comincieremo a ragionare poi del congresso. E lì la macchina prevede appunto che vengano chiamati i nostri iscritti ad affrontare i temi del congresso e a votare poi le tesi che presenteremo, così come i delegati e i nuovi organismi dirigenti. Questa è più o meno la macchina che viene messa in moto e per andare in tutte e cinquanta le nostre leghe capisci bene che c'è un'attività organizzativa molto impegnativa che dovremmo mettere in campo. E parallelamente anche un'attività comunicativa. Noi utilizzeremo al meglio le nostre capacità, gli strumenti che abbiamo messo insieme di comunicazione, a partire dalla trasmissione Spimocche, prima ricordarvi, ma anche attraverso quelli che sono la nostra presenza sui social media. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Twitter, abbiamo il nostro canale YouTube dove rimandiamo le trasmissioni, ad esempio che chi perde l'opportunità di vederle a lunedì, a giovedì, può ritrovare nel nostro canale. Abbiamo avviato adesso anche una pagina LinkedIn. Super social siete. Siamo super social perché pensavamo che i nostri pensionati fossero non digitali, invece abbiamo scoperto che anche su questo piano ci chiedono, sanno già fare, ma ci chiedono ad esempio di fare formazione sull'uso dei social media, ma più in generale sull'uso di quello che è lo strumento informatico. Quindi sono pensionati sempre più attenti proprio, interessati a essere un po' sul pezzo, come si dice, quindi social, interessati alla loro materia che riguardano ovviamente la loro vita, quello che ovviamente è quelli che possono essere i loro diritti. Quindi questo è molto bello, molto interessante, perché c'è un grande dialogo, voi fate tanto, però nello stesso tempo c'è anche tanta richiesta proprio da parte degli iscritti, ma non solo, insomma in generale dei pensionati. Ecco, dopo continuiamo sicuramente su quello che voi avete poi voglia di raccontarvi, un po' in questo spazio, che diciamo diventa un po' una sorta, vi permetto di dire, di anteprima all'appuntamento, appunto ai due appuntamenti consueti settimanali del lunedì e del giovedì, quindi dopo entrarete in quella sede tutti sugli aspetti specifici e vari temi che andrete ad affrontare. Magari se avrete voglia di darci qualche piccola anticipazione, a me piacciono sempre quelle anticipazioni, se volete e se potete. Però ecco, dicevo al di là di questo, che vuole essere in qualche modo un po' anche un'anteprima, avete visto un po' un cambiamento anche nel pensionato, nel suo modo di approcciarsi, magari, perché no, anche a voi, nelle richieste, nelle esigenze dopo, non siamo del tutto fuori, però insomma, diciamo post-Covid, diciamo così, insomma, ci sono stati dei cambiamenti e quel periodo, ne avevamo probabilmente già parlato un po' di tempo fa, però insomma, il famoso periodo del lockdown, come è stato vissuto proprio anche dei pensionati? Perché tante volte mi esco un attimo forse dalla nostra scaletta, però credo che sia importante, perché parliamo poi di persone, insomma, i congressi sono importanti, le riunioni, le assemblee sono importanti, ma alla fine nel centro, nel cuore di tutto ci sono delle persone. Tante volte in questo salotto io sinceramente ho dato molto spazio ai giovani, parlare proprio del come hanno vissuto questo periodo così difficile, i nostri studenti, i nostri giovani. E invece i pensionati? L'hanno vissuto con grandissima preoccupazione. Devo dire che il fatto di essere costretti, voglio dire, a restarsene in casa, a non fare socialità, è stato davvero un grossissimo problema. Ma a differenza della restante parte, voglio dire, della società, dove ha pesato sicuramente questo restringimento della socialità, della comunicabilità tra le persone, gli anziani hanno avuto il grandissimo problema che morivano. C'è nel senso che generalmente la persona anziana ha qualche elemento di fragilità e specialmente nella prima fase di incidenza del Covid, voglio dire, abbiamo avuto dei decessi che continuano purtroppo tutt'oggi. Quindi noi abbiamo dovuto necessariamente, ma sicuramente anche con tutta la coscienza che il caso necessitava, di agire nel nostro lavoro con questa consapevolezza. Quindi abbiamo lavorato su appuntamenti, abbiamo utilizzato i distanziamenti, abbiamo fatto tutta una serie di... ci siamo riorganizzati per poter comunque continuare nell'ambito del possibile a prestare dei servizi. Comunque voi ci siete sempre stati, mi piace ricordare questo, insomma, che voglio dire, in un periodo molto difficile, dove tante realtà sono state costrette in qualche modo a chiudere o non sono riuscite a procedere ad andare avanti, voi c'eravate, a tutela loro. Questo mi fa molto onore, posso dirlo. Sì, e poi la cosa è che noi siamo un grande osservatorio e secondo me le forze politiche, ma anche le istituzioni dovrebbero essere un pochettino più attente alle cose che noi recepiamo e che siamo in grado di trasmettere. Noi incontriamo migliaia e migliaia di persone durante l'anno per tutta una serie di motivi. Facciamo circa 80.000 denunce di redditi, facciamo una caterva di isi, insomma, incontriamo gente e riscontriamo nella gente che incontriamo una grande modificazione che sta avvenendo e che continua e che devo dire che c'è molto egoismo, è subentrato molto egoismo. Se una volta tu ti veniva proposto un problema da parte di una persona e gli dicevi guarda che è un problema che riguarda una determinata fascia di popolazione e che proveremo attraverso la contrattazione, non so bene cosa, di risolvere un pochettino tutti, oggi la gente ti dice no, io ho il mio problema, quindi risolve il mio problema. Quindi è una società davvero che si sta frantumando e bisogna avere molta attenzione. Noi stiamo oltretutto, oltre ad essere preoccupati su questo e a provare di darci un'organizzazione che riesca a dare risposte anche in questa situazione, stiamo provando anche attraverso il sistema di informazione, ma anche attraverso una serie di ricerche che stiamo facendo, di avere un rapporto con la restante parte della società, specialmente con i giovani. Oggi se c'è una classe di popolazione in questo paese che è, tra virgolette, passatemi il termine, massacrata, questi sono i ragazzi. Se ne stanno andando via questo paese a migliaia, sono generalmente le intelligenze, è il futuro che se ne va da qualche altra parte del mondo. Quindi la nostra società si impoverisce. Quindi noi abbiamo fatto una ricerca dove abbiamo provato di capire chi sono i nuovi pensionati, chi sono i pensionati nuovi che vengono dentro, che non sono i lavoratori che lavoravano semplicemente con la manualità, ma sono anche i lavoratori, voglio dire, che vengono da esperienze professionali decisamente medio-alte e che se quindi utilizzate al meglio possono dare un contributo. Quindi un cambiamento proprio anche nella figura proprio di... Esattamente. Poi abbiamo provato di capire questo divario generazionale. Prima che questo sfoci in conflitto, quale poteva essere un livello di comunicabilità. E quindi noi, la nostra ricerca, vuole dire, del nonoletale, abbiamo chiamato così, abbiamo provato di confrontarle con i ragazzi delle scuole, unitamente anche ad un ricordo della nostra storia che è stato il 1950 l'eccidio delle acerie di Modena. E con i ragazzi siamo riusciti ad entrare in un dialogo, voglio dire, dove loro in maniera molto chiara ci hanno detto le differenze che c'è tra noi e loro. Semplicemente ci hanno detto voi raccontateci la vostra storia, raccontateci un pochettino il passato, in modo che noi autonomamente proviamo di trarne degli insegnamenti. Ma per favore non diteci cos'è che dobbiamo fare. Comunichiamo e insieme, voglio dire, proveremo di trovare la collocazione nostra all'interno della società. Riescono a immaginarsi un domani pensionati? Termine che peraltro sono vero, porterebbe, farebbe pensare magari a una certa età, in realtà poi parliamo di età anche poi molto giovani, perché adesso voglio dire, domanda, delle domande. Adesso a che età si può andare in pensione? Più o meno qual è l'età? Adesso è entrato in vigore la Fornero e si va in pensione a 67 anni. Sì, quindi voglio dire un'età ancora giovane, insomma la persona, l'uomo e la donna è ancora giovane nel pieno della sua voglia di... Però il problema della Fornero è che è molto violenta, cioè nel senso che crea, non fa distinzioni. Io faccio fatica a vedere un lavoratore a 67 anni che va su un'impalcatura di... Anch'io. Oppure voglio dire davanti a un alto forno oppure ad esempio a poter fare comunque l'assistenza all'interno di una casa protetta a dei pari età. Sì, è un'età oggettivamente giovane, come voglio dire, però possiamo dire non più giovane per determinati lavori. In generale per... Vanno fatto delle distinzioni rispetto a determinati tipi di lavoro. Certo. Noi proponiamo che ci siano 41 anni di età la nostra proposta nostra 41 anni di età di contributiva, di contributi e iniziare a poter uscire volontariamente a 63 anni dal mondo del lavoro. Chi ha fisicamente la volontà se la siente ancora va avanti. Altri invece voglio dire vanno... Lui ha usato un termine che secondo me è meraviglioso. La scelta, possibilità di scelta. Credo che sia poi alla base di tantissime situazioni che rendono veramente protagonista l'essere umano. In questo caso parliamo appunto di la scelta di andare in pensione o meno e è molto importante. La possibilità di scelta. Quella che secondo me inizia sempre ad essere un po' ogni tanto, diciamo così, viene un pochino forse dimenticata. Soprattutto io lo dico, mi unisco a quello che stai dicendo tu perché lo dici tu e quindi sei ovviamente un grandissimo esperto, un grande riferimento. Quindi mi fa piacere questo. Questo è molto bello. Ci sono speranze che si riesca a seguire questa vostra indicazione, questo vostro suggerimento? Questo dipende anche molto da noi. Il passato, voglio dire, della CGL ma anche dello SPI devo dire che era molto legato alle intenzioni che aveva e il modo di lavorare che aveva del gruppo dirigente. Noi attraverso il lavoro che principalmente ha fatto SAURO vuole dire della comunicazione ma non solo abbiamo provato di non avere solamente una uscita del nostro lavoro che facevamo e delle nostre proposte ma abbiamo provato anche di attivare la parte entrata in modo che questo ci arricchisce e ci potesse far cambiare anche delle scelte che noi nei tempi avevamo fatto e quindi abbiamo la consapevolezza oggi di essere un soggetto che noi a differenza di quello che si pensa non siamo semplicemente un costo per la collettività noi potenzialmente potremmo essere una grande risorsa per la collettività lo siamo già adesso per i nuclei familiari voglio dire perché con le nostre pensioni voglio dire che non sono assolutamente alte però alla fine del mese lo stipendio c'è molte volte si aiuta il nipote molte volte si paga una bolletta eccetera questa è una funzione che abbiamo vogliamo averla anche all'interno della società quindi non solamente chiederci qual è il tipo di esperienza che abbiamo fatto e portare dei ricordi ma portare anche delle proposte voglio dire che fanno parte della vita vissuta della vita che si della società voglio dire nel suo insieme certo una società che cambia sempre Sauro se mi consigli vorrei tornare un attimo indietro al periodo del lockdown perché lì abbiamo fatto una cosa secondo me è incommiabile noi abbiamo 50.000 passi iscritti una parte di questi iscritti è molto anziana e noi li abbiamo telefonati a casa a tutti per sentire se avevano bisogno per sentire come stavano e quando ci hanno posto ad esempio delle richieste delle esigenze attraverso anche le associazioni vicine a noi tipo l'Auser siamo andati a casa a portare le medicine a aiutare per la spesa abbiamo avuto anche la collaborazione dei ragazzi perché non solo i nostri anziani hanno fatto questa roba ma anche le associazioni dei ragazzi che si sono prestate per questo tipo di attività e poi abbiamo esteso al massimo la comunicazione come diceva giustamente Alfredo che non fosse solo di comunicazione ma andate e ritorno e quindi l'approdo della nostra associazione sui social senza però perdere di vista quelli che sono gli strumenti tradizionali abbiamo in quel periodo investito sulla televisione sui social e poi abbiamo anche la possibilità di comunicare attraverso la nostra newsletter che produciamo anche questa accadenza quasi settimanale per aggiornare i nostri pensionati che ci chiedono proprio queste cose qua la ricerca che citava Alfredo che poi ha prodotto anche una bella iniziativa col Venturi una mostra quando gli abbiamo presentato la nostra ricerca non ho l'età gli abbiamo detto provate a darci un ritorno ma non con degli strumenti verbali ma con quella che è la materia che voi trattate quindi la grafica e la pittura ed è uscita una mostra che è molto bella e che nei prossimi settimane avremo pubblicato il catalogo così potrà essere un patrimonio che rimane per noi e per i ragazzi che hanno partecipato ma non solo questo abbiamo anche adesso ricominciato perché abbiamo la possibilità di farlo a riabituare la gente ad uscire che è un altro dei temi che adesso ci dobbiamo porre durante il lockdown noi cercavamo adesso deve essere superata la paura di tornare a uscire e di avere di nuovo socialità con le dovute precauzioni già lo spin piazza anche in questo serve questo è un modo che noi abbiamo cominciato per appunto determinare un po' di normalità che è una delle richieste richiamare un po' fuori in quello che è la vita mi viene a dire la vita vera la vita è fatta anche di rapporti di relazioni di faccia a faccia non solo di social ecco abbiamo avete toccato giustamente anche il tema proprio dei giovani i giovani si immaginano si vedono hanno fiducia in quello che è un po' insomma l'organizzazione il loro futuro lo vedono si vedono pensionati o hanno già gettato la spugna tanto chissamai quando andrò in pensione non ci andrò mai eccetera o c'è in qualche modo una nuova consapevolezza in questo quello che un po' avete osservato ma per lo meno per i rapporti che abbiamo noi abbiamo riscontrato che c'è consapevolezza della situazione decisamente precaria che i giovani stanno vivendo in questo paese la cosa che per lo meno io personalmente per la storia che ho vissuto perché siamo stati giovani anche noi ma siete ancora giovani per un breve periodo qualche annetto fa ecco noi avevamo in quel periodo forse perché i mezzi di comunicazione erano diversi avevamo una capacità di reazione forse un pochettino più alta di quello che c'è adesso adesso ci sarebbero tantissime potenzialità in più ma vedo non tanto una rassegnazione ma vedo un modo quasi individuale di poter risolvere questa ingiustizia che stanno colpendo fortissimamente i giovani i nostri ragazzi quando un ragazzo che ha fatto l'università che si è laureato che decide di andare fuori a fare il cameriere non so bene se a Londra a Vienno questa è una nazione ha perso quando succede una roba di questo tipo noi stiamo provando di capire voglio dire come possiamo come possiamo essere utili nel riuscire a portare all'interno della società questa consapevolezza non ci possiamo permettere di perdere queste intelligenze non ci possiamo permettere di mettere al pentaglio il nostro futuro questa è la verità ci sarebbe da cambiare però il nome SP perché ormai siete sindacati e giovani aggiungerei perché avete veramente a cuore ma questo è quello che sta emergendo in questa nostra chiacchierata questo mi piace molto perché poi di fatto pensandoci adesso non lo so magari però sindacati per i giovani non voglio dire legati proprio a questa tematica che tu ci stai spiegando benissimo abbiamo anche una mosca questa mattina che sta girando che vuole iniziare anche lei la nostra nuova stagione lì detto tra noi è incuriosita quindi questo è molto bello a parte questo dialogo tra due realtà che apparentemente potrebbero sembrare così lontane pensionate e giovani invece come dialogano insieme come una riesce in qualche modo anche a collaborare aiutare insomma con l'altra quindi questo è molto interessante stiamo ancora un attimo sulla comunicazione avete altri progetti poi è chiaro che voi lo racconterete nelle vostre consuette trasmissioni però insomma in qualche modo qualche anteprima qualche evento qualche progetto che vi sta a cuore ricordare noi facciamo tante cose siamo un'organizzazione complessa quindi ti faccio un esempio noi per esempio abbiamo nell'arco degli anni dei scorsi due anni fatto un'iniziativa molto importante che abbiamo chiamato vado resto a vivere in montagna e lì ci siamo preoccupati di quella che è una parte del nostro territorio che è marginale per tanti aspetti partendo da quello che era un bisogno espresso dai nostri pensionati se vogliamo aprire il fascicolo elettronico non abbiamo la rete sufficiente per poterlo fare quindi abbiamo provato a vedere l'ampio spettro di cose che sarebbe stato utile per poter appunto far rimanere o incentivare le persone a vivere sì perché anche quello esatto del fascicolo elettronico ragazzi lo speed è un qualcosa che io penso a genitori eccetera che insomma hanno un pochino sorto il naso dicendo ma insomma anche per esempio la necessità a volte sembra quasi indispensabile avere una carta di credito un banco ma uno potrebbe ancora avere poi per non parlare dello speed dello speed insomma che adesso è necessario serve però ragazzi non siamo tutti non sono tutti avvezzi a questo ecco noi come sindacato pensionati insieme a federal consumatori abbiamo fatto un'attività per aprire lo speed a chi aveva bisogno di un supporto esperto su queste cose adesso la richiesta che viene ed è una richiesta alla quale daremo risposta è di fare formazione per l'utilizzo dello speed però hanno cioè c'è voglia di imparare quindi non c'è una frase del tipo no io non lo faccio perché non lo trovo giusto chiuso no invece c'è voglia di guardando l'ampio ventaglio dei pensionati nel largo c'è dentro tutto c'è dentro tutto ah beh ovvio c'è chi ha un rifiuto perché ormai è un età e chi anche invece è aperto quelle che sono certo tra l'altro una volta imparata anche le comodità di avere strumenti di costruzione è verissimo si riesce a fare da casa praticamente un sacco di cose è in dubbio l'utilità che ha è molto pratico eccetera però insomma è anche bene mettere a punto e ringraziare realtà come la vostra che permettono che questo sia possibile permettono in qualche modo la possibilità di andare a così a educare a insegnare i pensionati appunto queste tecnologie quindi è molto importante perché sennò sarebbe una lacuna non affronto il tema delle cosa dite abbiamo alcuni minuti delle pensioni perché sennò partiamo male già il lunedì già si riparte con la scuola con il insomma che ha ripreso il lavoro eccetera perché insomma ci sono dei dati che adesso insomma per quanto riguarda le pensioni che insomma non superano i 500 euro mensili un 42% ci sono dei numeri abbastanza importantini insomma su queste pensioni comunque facciamo finta che dicevo una canzone magari questa poi sicuramente però c'è la piattaforma del sindacato sulle pensioni esatto ecco che almeno su questo tema vogliono interagire nel senso che si è proposto almeno tre volte il minimo come pensioni di garanzia per avere diciamo così una pensione dignitosa così come però adesso ci rendiamo conto che il totalmente contributivo fa ha questo effetto distorsivo quindi ci bisogna di intervenire addirittura la Fornero era più generosa rispetto a quello che è invece il contributivo to cure che abbiamo in vigore adesso quindi è un oggetto all'attenzione ed è parte della contrattazione che vogliamo fare non dipende solo da Modena ovviamente perché è un ragionamento più generale ma si sappia che non molliamo la presa su questo tema perfetto Alfredo vuoi aggiungere qualcosa che non abbiamo detto? tutto ciò che stiamo facendo è per perché si ha l'impressione voglio dire nel dibattito che c'è ma anche nel dibattito che sta connotando questa questa campagna elettorale dove voglio dire si ha l'idea di una di una nazione che ha un paio di interessi o tre ci sono delle differenze che sono enormi cioè noi abbiamo un livello di socialità in questo paese che rischia davvero di esplodere ma non c'è solamente il dato reddituale voglio dire che divide che ormai la forbice si è allargata in modo impressionante ma tutto questo voglio dire va a incidere sui modelli di vita noi arriviamo tra un po' arriviamo alle esclusioni stiamo provando a pensare adesso questo incremento del costo dell'energia costringerà tutta una serie di polisportive di centri anziani di centri di aggregazione molto probabilmente a vivere male o altrimenti a chiudere in questa regione in questa provincia questi centri di aggregazione hanno aiutato ad avere una socialità che molte volte ha rivalrato delle differenze quindi ha creato un modello di vita dove lo stare insieme era un valore aggiunto che superava a volte anche delle grandi diversità dal punto di vista reddituale ecco noi dobbiamo stare molto attenti e noi lo denunciamo continuamente e siamo in piazza per fare questo perché non dobbiamo pensare voglio dire che tutte le cose siano uguali ci sono delle grandissime differenze ci sono delle grandissime esclusioni e una società che si rispetti non può permettersi questo chiarissimo io davvero vi ringrazio per quello che ci avete raccontato per quello che fate costantemente tutti i giorni ricordo appunto l'appuntamento del lunedì e giovedì sera 19 e 15 appunto con SPI Mo tanto davvero grazie da Alfredo Sgarvi segretario generale SPI CGL e Sauro Serri responsabile comunicazione SPI CGL grazie davvero per la partecipazione